Buongiorno e buon inizio del Triduo Pasquale. È Giovedì Santo, entriamo con la liturgia nella lunga celebrazione che, avviandosi questa sera con la memoria dell'istituzione e dell'Eucaristia da parte di Gesù nell'ultima cena, va a concludersi poi nella notte di Pasqua con una grande veglia pasquale di Ressurrezione. È da dire che nella mattina del Giovedì Santo, liturgicamente, in qualche diocesi si celebra il mercoledì o il martedì per comodità pastorali, si celebra anche la messa crismale, celebrazione che riunisce i preti, i diaconi e tutto il popolo di Dio attorno al suo vescovo per consacrare gli oli sacri necessari per i sacramenti della Chiesa e manifestare quell'unità che ci fa essere corpo unico nella diversità dei carismi, dei doni e dei ministeri. Ognuno al proprio posto, come unico popolo sacerdotale, al servizio del quale ogni ministerialità è importante, in particolare quella del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi. Ma ci soffermiamo nella nostra meditazione quotidiana sul brano che invece caratterizza la celebrazione serale appunto della memoria della cena domini, l'istituzione dell'eucaristia nel Cenacolo, Gesù assieme ai suoi discepoli. Ce ne parla il Vangelo di Giovanni, il capitolo 13, i primi 15 versetti vengono letti mentre le comunità vedono fisicamente compiersi il segno simbolico della lavanda dei piedi. Lavare i piedi ai propri discepoli è un'opera che compie Gesù, un gesto sconvolgente che scandalizza tanto che Pietro fa fattica ad accoglierlo perché nemmeno uno schiavo poteva essere obbligato a lavare i piedi al suo padrone. Dunque l'amore di Gesù, amore di servizio, è un amore che non si può comandare, di libertà assoluta è un amore che non ha misura e che oltrepassa anche la nostra immaginazione. Di questo ci parla questo gesto concreto che realizza nella pratica quell'espressione straordinaria che ci regala il Vangelo, li amo sino alla fine. Amare sino alla fine, senza aggettivi, senza specificazioni, il verbo amare come unico agire di Dio perché in realtà è la sua identità. Gesù ama lavando i piedi e Gesù ama morendo in croce dando la vita per noi, per tutti coloro che riconoscono di averne bisogno. Fra i dodici infatti non c'è solo Pietro che fa resistenza con la sua cocciutaggine o forse con quella sua superbia un po' caratteristica che è di tutti noi, ma c'è anche Giuda e con lui allora tutto il dramma che ci ha preparato in questi giorni della notte del cuore dell'uomo. Anche a Giuda Gesù lava i piedi. Anche Giuda è il suo amico. Anche Giuda viene reso disponibile ad una possibilità. Gesù apre le porte per tutti perché possiamo riconoscere nell'opera di Dio lo spiraglio necessario per intraprendere il cammino della salvezza che è tutta grazia ma che rispetta la nostra libertà. Così come Dio è libero al punto tale da dare tutto se stesso per noi, allo stesso modo lascia liberi noi di scegliere che cosa rispondere. Cominciamo allora questa nostra esperienza pasquale chiedendoci non solo o non tanto che cosa noi vogliamo fare del servizio che abbiamo ricevuto da Gesù, se siamo capaci di metterci a servizio dei fratelli, ma prima ancora chiediamoci se siamo disponibili a lasciarci lavare i piedi da Gesù, da Dio, riconoscendo di essere peccatori, bisognosi di misericordia e per questo immensamente amati dal nostro Dio. Buon triduo pasquale a ciascuno.